Dopo quasi 20 anni una nuova illuminazione più efficace e più rigorosa in termini energetici accenderà il cuore della città di Teramo. Nelle zone centrali prenderanno il via infatti in settimana i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica. Un intervento di particolare pregio che garantirà risparmio energetico ma soprattutto una nuova funzionalità per le postazioni di illuminotecnica nella direttrice Corso San Giorgio, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Orsini e Corso dei Michetti. I lavori che riguarderanno gli impianti di illuminazione del centro storico, un impianto risalente al 1997-98 e nell'X inizierà i lavori di sostituzione di corpi illuminanti con corpi illuminanti a LED di ultima generazione. Quindi sarà una riqualificazione energetica, un risparmio sotto il profilo economico e ovviamente restituiremo la città anche nell'ottica della riapertura che è stata annunciata dal governo, una città sicuramente, un centro storico più illuminato sotto il profilo degli impianti di illuminazione. I lavori dal costo superiore agli 80 mila euro si inseriscono al progetto di riqualificazione complessiva del centro storico che ha già visto la sua attuazione in particolare con il completamento degli interventi su Corso San Giorgio e Corso dei Michetti. Tempistiche dei lavori? Ma parliamo di brevi, diciamo qualche settimana ma mettiamo un mese per essere più sicuri perché così la superficie da sostituire, quindi i corpi sono tantissimi, riguardano non solo Corso San Giorgio, il Corso Vecchio, l'area circostante del Duomo, Piazza Orsini e quant'altro per cui voglio dire ci vorrà un mesetto e più per poter finire, ultimare tutti i lavori. Questi lavori risolveranno anche un po' di problemi di scarsa illuminazione in alcuni punti? Assolutamente sì, è una luminosità stabilita da una progettazione e anche la sovraindendenza e quindi una qualità della luce totalmente diversa e dovremmo raggiungere questi obiettivi che ci venivano chiesti anche dai commercianti del centro storico e non solo.